Ottava edizione di Buongiorno Ceramica, secondo appuntamento del Festival della Reciprocità. Sì, il Buongiorno Ceramica è l'appuntamento nazionale che si svolge in contemporanea in tutti i comuni di antica tradizione ceramica raccolti all'interno dell'ICC e giunta all'ottava edizione. Invece localmente l'abbiamo inserito con piacere all'interno del Festival della Reciprocità assieme ai comuni di Aglie, San Giorgio e poi noi di Castellamonte per riuscire a dare una maggiore visibilità a tutti gli eventi del territorio e come sempre questo è un appuntamento che mira a mettere in mostra le eccellenze ceramiche del territorio. Tutti gli artisti e gli artigiani di Castellamonte faranno bella mostra di sé in più punti espositivi e poi abbiamo un'importante novità quest'anno che è il concorso internazionale dedicato alle ceramiche sonore o detto più banalmente ai fischietti. E non soltanto perché verranno inseriti anche due eventi del faccio oltre al concorso in Piemontese. Sì, il nostro vecchio istituto d'arte, oggi liceo artistico 25 aprile faccio, ha compiuto cent'anni. Cerchiamo di valorizzare la bravura dei suoi allievi ad ogni occasione. Il primo appuntamento di Buongiorno Ceramica sarà appunto l'inaugurazione di un pannello realizzato dalla classe ceramica di due anni fa che abbiamo potuto esporre solo oggi a causa della pandemia, mentre domenica 22 alle 18.30 in Piazza della Repubblica gli studenti della classe di moda hanno organizzato una sfilata con abiti interamente realizzati e progettati da loro. Quindi appuntamento al prossimo fine settimana. Dal 20 al 22 maggio a Castellamonte vi aspettiamo per un lungo programma di Buongiorno Ceramica.